Voi siete quattro fondatori, tra questi quattro fondatori c'è una giovane donna, una ragazza. Possiamo sperare che in futuro vediamo anche qualche volto femminile che insieme a lei cerca di portare avanti le istanze delle sardine? Beh, ci sono già state figure femminili e ce ne saranno ancora. La stessa Jasmine che ha fatto varie presenze in tv, adesso è molto impegnata in Calabria, ha già raggiunto diversi risultati facendo politica, non nel senso stretto ma da fuori e quindi c'è sicuramente una componente femminile, il fatto che Giulia non voglia apparire in tv non c'entra niente con le quote rosa del movimento. Le piacciono le quote rosa? Certo, ma soprattutto il bello di questo movimento, a parte che ha un nome femminile e questo ci fa molto piacere, è che è composto per la maggior parte da donne, questo è bellissimo. Ecco, è importante che poi dopo quando crescerete nelle posizioni apicali ci siano anche le donne. Allora vi faccio vedere il punto di Paolo.